Innes, innanzitutto benvenuto. Grazie mille. Come è nato il contatto con la Ternana? Ma sinceramente è successo l'ultimo giorno del mercato, ho parlato col direttore, c'era l'interesse da parte della squadra, mi è piaciuto fin da subito il progetto e ho deciso di venire qui e sono molto contento della decisione che ho preso. Per chi non ti conoscesse, ci descrivi le tue caratteristiche di centrocampista? Sì, io sarei più una mezz'alla di inserimento, più di struttura, che mi piace buttarmi nello spazio e fare sia la fase offensiva che la fase difensiva. Nella scorsa stagione, nonostante l'epilogo sfortunato nella Virtus Entella, ha molte presenze, qualche gol. Sì, a livello personale è stato il primo anno tra i professionisti e è andato abbastanza bene, poi purtroppo la squadra è retrocessa, però sono contento a livello personale, è andata abbastanza bene. A proposito di livello personale, da questa stagione cosa ti aspetti? Niente, io voglio solo dare una mano alla squadra, ai miei compagni di fare bene quest'anno, di raggiungere i nostri obiettivi e di fare il meglio possibile. Ecco, a livello di squadra cosa ti aspetti? Mi aspetto di fare un bel campionato, siamo una squadra forte e arrivare al massimo, fare il massimo che possiamo fare, perché secondo me possiamo arrivare in alto. Vuoi salutare i tuoi nuovi tifosi nella tua lingua? Gli ase o il sopalu il saluto il cosmo di Sternan, forza a fare!